Michael Fassbender e Rebecca Ferguson sono i protagonisti di L'Uomo di Neve, thriller ispirato all'omonimo romanzo di John Esbo. L'attore irlandese interpreta il detective Harry Hall, chiamato a investigare sulla sparizione di una donna dopo un'abbondante nevicata, mentre la Ferguson veste i panni di una promettente recluta. Rebecca ha applaudito la scelta del regista Thomas Alfredson di girare il film in Norvegia. Abbiamo avuto discussione su questo in altri paesi del mondo, e credo che era così brillante che Thomas stod i suoi piedi e ha detto che questo era scritto per essere scelta in Norvegia. E' magica, e' strano, e' incredibile, un'incredibile ruota. Grazie. Grazie.